Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6. Apriamo con la cronaca giudiziaria sul caso del depuratore di Chieti al centro dell'inchiesta denominata Pantarei e degli arresti. Per smaltimento illecito di rifiuti e inquinamento ambientale intervengono gli ambientalisti che denunciano il silenzio degli enti che pure sarebbero stati a conoscenza delle problematiche legate alla gestione del consorzio Bonifica Centro. Gli enti sapevano il malfunzionamento del depuratore di Chieti. Era noto da anni e questo quadro emerge proprio dalla lettura dell'ordinanza della magistratura che ha portato quattro arresti la scorsa settimana. Nel documento si richiamano le relazioni dell'Arta a partire dal 2010 e ancora nel 2013, 14 e 15. Nell'ordinanza della magistratura è inequivocabile il fatto che l'Arta deve essere segnalato fin dal 2010 gravissime lacune impiantistiche, cioè diceva che quell'impianto non funzionava. E nonostante ciò non risulta che la regione Abruzzo, in particolare il servizio rifiuti della regione, sia mai intervenuta se non poi al 2015, a caso ormai conclamato, per sospendere o meglio addirittura togliere l'autorizzazione al trattamento di 220.000 metri cubi di rifiuti liquidi che appunto era stata rilasciata nel 2009 a questo consorzio. Adesso si attendono risposte dalla regione, spiegano gli ambientalisti se quelle relazioni sono passate per le mani dei dirigenti preposti e se sì perché nessuno ha mai fatto niente, nessuna pubblicazione sul sito, nessuna documentazione di quello che stava succedendo. Noi chiediamo poi alla regione Abruzzo, in particolare al dirigente del settore rifiuti Gerardini, risposte sia su questo fatto sia sulla gestione in generale dei rifiuti in Abruzzo, perché la legge prevede che i controlli siano pubblicati sul sito della regione, ma sul sito della regione non c'è nulla. Lo stesso chiediamo al servizio via della regione, al dottor Longhi, perché non si pubblicano i controlli sugli impianti autorizzati. Alle ASL poi invece chiediamo l'aspetto sulla salute, con tutti questi scandali che si ripetono nella Val Pescara, che è un vero disastro ambientale. Cosa stanno facendo e anche in questo caso cosa pubblicano sui loro siti? Noi non troviamo mai nulla. E sulla vicenda Abruzzo, il dirigente assunto 16 anni dalla provincia e risarcito con oltre un milione di euro, arriva il giudizio della Corte dei Conti dopo l'esposto presentato due anni fa dal consigliere regionale Leandro Bracco. Vediamo. 250.000 euro all'ex presidente della provincia di Pescara, Pino De Dominici, 680.000 euro ciascuno a 6 dei 7 assessori che componevano la giunta che nel 2000 ratificò la nomina di Edoardo Barusso. In totale 1.150.000 euro che la procura della Corte dei Conti ha chiesto agli ex amministratori pescaresi come risarcimento per il danno erariale procurato. Edoardo Barusso venne chiamato da Trieste a ricoprire l'incarico di direttore generale della provincia con la quale stipulò un contratto di lavoro. Barusso però non lavora nemmeno un giorno nell'ente per effetto della revoca per giusta causa della sua nomina. Da lì ne è nata una lunghissima controversia giudiziaria terminata in Cassazione con la sentenza che ha condannato la provincia di Pescara al pagamento di 1.700.000 euro di risarcimento danni. A pochi giorni dall'avvio del processo in Corte dei Conti Bracco torna sull'esposto evidenziando i passaggi d'accusa del vice procuratore della Corte Aquilana Massimo Perin. Martedì 28 marzo prossimo è previsto l'inizio del processo contabile presso la Corte dei Conti dell'Aquila. Massimo Perin nel suo studio degli atti ha testualmente scritto che la nomina di Barusso è stata connotata da un'estrema superficialità adottata in assenza di qualsiasi forma di selezione. Quindi la collettività pescarese si è ritrovata a sborsare a Edoardo Barusso 1,7 milioni di euro dopo la sentenza di Cassazione del luglio del 2012. Questo denaro non deve essere tirato fuori dalle tasche della collettività pescarese. E questa notte l'imponente statua di San Michele Arcangelo, opera dello scultore Venanzio Crocetti, è stata posizionata al centro della nuova rotonda Teramo tra Via Po e Ponte San Francesco. È stata una giornata piena di sorprese per i terramani. Questa mattina infatti si è dimesso il neoassessore comunale alla cultura Marco Chiarini in una lettera di accuse alla sua stessa maggioranza. Ascoltiamo. È arrivato di notte, discretamente. È stato posizionato a Dali Spiegate nel centro della rotonda in entrata alla città di Teramo, incrocio tra Via Po e Ponte San Francesco. È la statua di San Michele Arcangelo, opera dello scultore Venanzio Crocetti e dono della nuova banca di credito cooperativo di Castiglione Pianella all'amministrazione comunale. L'augurio è che la presenza di questo angelo bello e forte possa rappresentare l'inizio di una rinascita per una città come Teramo che da anni ha perso la propria vocazione turistica ed artistica. Di notte appunto per non creare problemi al traffico l'abbiamo fatto in silenzio appunto perché ritenevamo giusto poter far sì che la ditta potesse lavorare in serenità. Queste scelte vogliono un po' ritrovare l'identità culturale di questa città? Sì, io guardi oggi in particolar modo devo sempre di più ringraziare Marco Chiarini perché insieme abbiamo portato avanti questa idea, questa possibilità che anche una rotonda possa esprimere la propria cultura. E se c'è un angelo che ad ali spiegate arriva di notte in città c'è un assessore che all'alba vola via. Marco Chiarini, delega alla cultura, si è dimesso questa mattina dalla giunta a Brucchi con accuse pesanti verso la sua stessa maggioranza di governo che lo avrebbe, a suo dire, boicottato in ogni modo nelle iniziative intraprese. Ultima in ordine di tempo gli stati generali della cultura. Marco Chiarini si è dimesso però. Lo dico a malincuore perché mi è dispiaciuto, l'ho saputo questa mattina, non meritava purtroppo queste brutture, tutti questi attacchi, è una persona veramente particolare in gamba. Il San Michele Arcangelo di Crocetti che da oggi dà il benvenuto a chiunque entri a Teramo è un giovane fiero, con in mano la testa del demonio nelle sembianze di un drago da lui sconfitto. A Teramo il demonio da sconfiggere avrà le sembianze della povertà crescente, della paura di non farcela, dell'amarezza della precarietà economica e politica. E dopo le dimissioni dell'assessore alla cultura Marco Chiarini, a margine una nota del sindaco Maurizio Brucchi che leggiamo, questa mattina ho ricevuto la lettera di dimissioni dell'assessore Marco Chiarini, comprendo le motivazioni e capisco le considerazioni che hanno dettato il gesto. So bene che fare l'amministratore in questa speciale congiuntura è oltremodo difficile, soprattutto per le ragioni di natura economica che spesso limitano le prospettive, ma anche per la pressione mediatica e politica che inevitabilmente fa sentire il suo peso. Rilevo però la bontà del lavoro svolto dall'assessore fino ad oggi, apprezzandone ispirazioni e risultati. Per queste ragioni ho contattato immediatamente Marco Chiarini, chiedendogli di sospendere la sua decisione e prendersi una pausa di riflessione. Lo stesso ha accolto con disponibilità la mia richiesta, concedendosi pertanto alcuni giorni di riflessione, al termine dei quali scioglierà i dubbi e comunicherà la decisione definitiva. Cambiamo argomento, dal 26 ottobre al 2 novembre si svolgerà l'Abruzzo Open Day Winter, l'ambizioso evento organizzato dalla regione Abruzzo che punta a far conoscere le bellezze ai turisti fuori regione. Ne sono 200 gli eventi in cartellone per offrire intrattenimento per ogni gusto. Una settimana per raccontare l'inverno autentico, si racconta così l'Abruzzo con il suo Open Day Winter, l'evento che punta a catturare l'attenzione dei turisti, offrendo per 7 giorni 200 eventi in tutti i suoi angoli più caratteristici e sconosciuti. Un cartellone di eventi che spazia dallo sport, alla tradizione, alla rievocazione, all'enogastronomia, il tutto made in Abruzzo. Ognuno sceglierà a seconda delle proprie preferenze, delle proprie vocazioni e soprattutto del gusto personale, ma certamente lo spaccato è amplissimo e penso che c'è occasione per definire una offerta di grandissimo livello. Poi quelle vincenti noi le cominciamo già a tastare e a testare perché in alcuni casi abbiamo raggiunto il sold out. E' possibile iscriversi agli eventi in programma grazie al sito dedicato all'Open Day Abruzzo, anche se già si registrano tre eventi overbooking. Noi abbiamo onestamente identificato presenze per questo Open Day Winter, un'ipotesi, chiamiamola così, pauperistica, 10.000 presenze. Ma contiamo di averne molte di più, anche perché in alcuni casi le prenotazioni sono esaurite. Posso anche citare due esempi come il Bike Life, questa operazione che ha già raggiunto il top con grandi presenze nel mondo del ciclismo, e la Transiberiana di Maia dove praticamente il sold out è certo. Torriamo a Teramo dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha presentato un'iniziativa a favore dei tanti cittadini di San Nicolò a Tordino che chiedono giardini ed aree dedicate agli amici a quattro zampe. Si tratta di una raccolta firme che durerà 100 giorni e che ha come fine quello di sensibilizzare l'amministrazione comunale ad individuare appunto nuovi spazi verdi e distinti per gli amici a quattro zampe. A San Nicolò a Tordino, frazione importante alle porte di Teramo, si sta combattendo una battaglia di civiltà che vede contrapposti i genitori di bambini contro i proprietari dei cani. I genitori chiedono giardini senza cani e i proprietari aree verdi e recintate per far sgambettare i loro animali. Impegnati nel trovare una soluzione, i 5 Stelle di Teramo che lanciano una raccolta firme di 100 giorni per sensibilizzare il comune ad individuare questi nuovi spazi. Questa iniziativa nasce proprio per le segnalazioni che ci sono venute sia da parte di alcuni proprietari di cani e sia da parte dei genitori che hanno tutto il diritto di portare i loro bambini in dei parchi puliti e sicuri. Così come il movimento è molto sensibile ai diritti degli animali, quindi ovviamente è un'iniziativa che ci ha visto molto coinvolti e molto attivi. Noi speriamo che in questi 100 giorni riusciremo a raccogliere il maggior numero di firme. Una campagna di civiltà comunque? Assolutamente. Speriamo che sia solamente la prima perché è una civiltà per un comune avere un'aria cane in ogni quartiere. Ora abbiamo iniziato con San Nicolò, ma sicuramente sarà un'iniziativa che porteremo per ogni comune Terramano. Come deve essere un'aria dedicata ai cani? Allora, innanzitutto è necessaria un'aria chiusa, un'aria verde chiusa perché i cani hanno il diritto di correre e soprattutto di non portare la museruola. Per i fondi? Il costo di questo progetto si accederebbe intorno ai 30 mila euro, quindi non c'è bisogno di spendere delle cifre esagerate per rendere decorosa un quartiere o un'area. Si può firmare e si può firmare anche a Terramo Capoluogo? Sì, la raccolta firma è destinata a tutti i cittadini Terramani. Ripeto, è semplicemente questo è il primo passo che stiamo facendo per avere un'aria cane in ogni quartiere. Quindi cominciamo con San Nicolò, aderite in tantissimi perché potremmo avere un'aria cane in ogni quartiere. Il comune di Pescara si rivolge ai privati per la gestione del verde cittadino, ci sarebbe anche un risparmio per l'ente. Paolo Renzetti. Assessore Di Petro, oggi lanciate un'iniziativa, soprattutto un appello ai privati, quello di adottare un'area verde di Pescara, esperimento già riuscito in altre città. Abbiamo pensato con l'occasione di rilanciare questa iniziativa e di lanciare un appello appunto a tutti i cittadini di Pescara affinché ognuno si adotti una propria area verde. Occupa pochissimo tempo, però si può fare tanto per la propria città. Oggi, contestualmente, lanciamo anche il fatto che l'associazione La Protezione Civile Val Pescara adotta il Parco Calipari, che è un grande parco di fronte all'ospedale civile di Pescara. Loro si occuperanno, come tutti quelli che adottano un parco, dell'apertura, della chiusura e, diciamo, di una sorta di vigilanza. Qualora dovessero vedere che una giustrina si è rotta o facce strana all'interno del parco, avvisano il comune e poi noi interveniamo. L'inter risparmierà, anche se non materialmente, perché noi ad oggi ci dobbiamo occupare con i nostri operai, le nostre aree verdi, però ci aiuta a non dover cercare risorse per affidarle all'esterno pagando. Se ogni cittadino, diciamo, fa un contributo alla città, possiamo risparmiare tutti e investire quello che avanza magari sul miglioramento di un parco. Gli studenti del liceo di Giulianova hanno progettato una tecnologia per rendere fruibili i monumenti ai non vedenti e lo hanno presentato a Roma. Vediamo. Oggi vi mostreremo un esempio di buona scuola di nome di fatto. Siamo nel liceo scientifico Maria Curie di Giulianova, dove siamo venuti ad intervistare gli studenti e professori delle classi 4a G e 4a F, che sono di ritorno da Roma, dove hanno partecipato alla Fiera Internazionale delle Invenzioni Tecnologiche con un loro prototipo. Com'è nato questo progetto? Il progetto è stato svolto durante un laboratorio di alternanza scuola-lavoro nell'anno 2015-2016. È coinvolto due classi, 3a G e 3a F. Durante il laboratorio abbiamo realizzato un modellino tattile del Duomo di Giulianova, che è accessibile anche ai non vedenti e permette di avere delle informazioni storico-artistiche e di natura storica sul monumento. Abbiamo costruito questo prototipo principalmente per permettere alle persone non vedenti non solo di capire come è fatto il monumento toccandolo, ma anche di avere la spiegazione istantanea delle parti più importanti. Infatti sul progetto ci sono delle parti in nero e sono interattive e toccandole si ha la spiegazione. Questo progetto avrà appunto una continuità nell'anno scolastico in corso. Il progetto che è coinvolto come parte attiva agli studenti sia nella realizzazione del dispositivo che nella realizzazione dei contenuti multimediali ha appassionato i ragazzi, li ha coinvolti emotivamente, li ha interessati e motivati e proprio per questo motivo ha diritto e destinato ad avere vita futura. e ha regalato loro anche grande soddisfazione. Il fatto di essere stati selezionati tra i 55 progetti innovativi da portare al Maker Faire di Roma è stato sicuramente motivo di vanto per loro ragazzi ma anche per tutto l'istituto. Ed è definito un gemellaggio dai sapori tipici, quello che verrà stipulato domani tra lo zafferano DOP dell'Aquila e il radicchio IGP. Giorgio Alessandri. È un gemellaggio da leccarsi i baffi, quello che verrà sancito domani 25 ottobre tra lo zafferano DOP dell'Aquila e il radicchio rosso di Treviso IGP e il radicchio variegato di Castelfranco IGP. Il clou dell'evento sarà l'incontro aperto al pubblico dal titolo lo zafferano dell'Aquila DOP come motore di sviluppo del territorio che si terrà presso Palazzo Santuccia e Navelli. La serata si concluderà con una cena ufficiale a Prada d'Ansidonia in cui lo chef di casa Lino Guarascio aprirà le porte della sua cucina agli chef che arriveranno appositamente da Treviso per dar vita a piatti unici grazie all'incontro di sapori e di gusto dei prodotti dei rispettivi territori. Siamo molto felici di poter ricambiare la calorosa ospitalità che il consorzio del radicchio rosso trevigiano e del variegato di Castelfranco ci ha offerto lo scorso anno con una giornata dedicata proprio al nostro gemellaggio qui nei nostri luoghi dello zafferano dell'Aquila e in particolare al Palazzo Santucci di Navelli e poi al ristorante Il Borgo dei Fumari di Prada d'Ansidonia. È un'occasione non solo per suggellare il gemellaggio per festeggiare l'amicizia che ormai c'è fra le nostre due realtà ma anche un momento per riflettere proprio sullo zafferano e sulle possibilità che intorno allo zafferano dell'Aquila ci sono per il territorio perché sappiamo bene che lo zafferano è una risorsa non solo essa stessa come prodotto di nicchia, come prodotto molto rinomato e costoso, preziosissimo conosciuto in tutto il mondo ma proprio può essere il motore, il volano per uno sviluppo di tutto l'indotto quindi a partire dal turismo, a partire dalla ristorazione, i servizi del territorio e quindi una possibilità in più anche per i giovani di puntare sul lavoro nella nostra zona, nel nostro territorio dell'Aquilano e della Piana di Navelli. E cambiamo decisamente argomento si continua a lavorare al restyling dello stadio adriatico a Palazzo di Città si è tenuto un nuovo incontro operativo sull'ipotesi progettuale per la riqualificazione e ammodernamento dell'impianto di Via Pepe al tavolo con il comune c'era la regione Abruzzo, la Lega BB Futura l'Invimit, investimenti immobiliari italiani, l'ICS, l'Istituto per il Credito Sportivo alla riunione hanno partecipato tra gli altri il sindaco Marco Alessandrini il presidente della Lega B, Andrea Abodi il presidente del Pescara Daniele Sebastiani nel corso della riunione è stato presentato il protocollo sottoscritto da Lega BB Futura Invimit e ICS per la possibilità di utilizzare lo strumento del Fondo Immobiliare Pubblico per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dello stadio è stato un incontro molto positivo, ha detto il sindaco Marco Alessandrini che ha registrato anche l'interesse di Invimit a finanziare gli interventi l'assessore allo sport Giuliano Diodati ha detto che l'obiettivo è quello di arrivare ad un nuovo stadio conforme ai più moderni standard UEFA Euro 4 in grado di accogliere tutti i tipi di manifestazioni Ed apriamo così la pagina sportiva nuovo stop per il Pescara nonostante la buona prova i biancazzurri a Udine peccano ancora in fase realizzativa e subiscono d'altro canto l'incissività degli attaccanti friuliani, Terro e Zapata determinanti per il 3-1 finale vediamo il servizio della partita e le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo Un film già visto con lo stesso copione anche a Udine vanno in scena 90 minuti simili a tanti altri con il Pescara a tratti anche bello, sfortunato ma come al solito leggero e inconcludente in avanti anche nel delicato scontro diretto con un'audinese appena sufficiente i biancazzurri vanno sotto all'inizio reagendo poi con coraggio ma palesando i soliti limiti difensivi e la consuetà sterilità offensiva e fra poche ore ci sarà la gara casalinga allo stadio adriatico con l'Atalanta in cui conterà un solo risultato la vittoria si comincia in una mattinata umida la Dacia Arena davanti a 15.000 spettatori con 400 supporters biancazzurri a scaldare subito l'atmosfera al quinto Memuschai che in area da posizione defilata allarga troppo il compasso mettendo a lato al sesto arriva la risposta di Terroche davanti a Bizzarri allarga troppo la conclusione in questo caso mettendo il pallone a lato l'ex giocatore del Chievo Verona si rifà però qualche minuto dopo il cronometro segna infatti il nono minuto quando Campagnaro a terra in area pescarese Zapata Rocchi ben piazzato indica il dischetto andando anche ad ammonire l'argentino dagli 11 metri e Terro con un cucchiaio a spiazzare Bizzarri per il gol dell'1-0 gara subito in salita per la formazione abruzzese al 26esimo però il Pescara va vicinissimo al pareggio ma la bella rovesciata di Caprari finisce incredibilmente sulla traversa il fino sfortunato è che deve fare i conti con una dea bendata che continua a voltare le spalle alla squadra del presidente Sebastiani i biancazzuri fanno tanto possesso palla ma il gol non arriva il Pescara in partita ma soffre la fisicità dei bianconeri nel finale di primo tempo vede ancora l'udinese pericolosa al 43esimo con Zapata che approfitta di una dormita della difesa pescarese andando a scaricare al lato della porta difesa da Bizzarri nella ripresa si riparte con il Pescara desideroso di pareggiare al quarto Memushai una buona opportunità ma conclude centralmente i ragazzi di Massimo Oddo ci mettono cuore e generosità ma non basta all'ottavo è ancora Caprari questa volta a prendere la mira dai 25 metri alzando però sopra la traversa i biancazzuri si lasciano preferire sul piano del gioco senza però riuscire ad incidere prima del quarto d'ora del Neri vede i suoi un po' in difficoltà e manda in campo Badu al posto di Depol e poi l'ex veronese Alfredson per Iancto qualche minuto dopo arriva il momento di Simone Pepe l'atteso ex bianconero che viene accolto dai tifosi di casa in maniera molto calorosa l'inerzia del match non cambia con il Delfino fare la partita prima della frittata del 25esimo con la rete di Terò che sulla respinta accorta dell'estremo pescarese Bizzarri insacca praticamente a porta vuota per il 2-0 Oddo rischia il tutto per tutto mandando in campo Mitrizia e Crescenzi e passa qualche secondo e Aquilani con una bella conclusione al volo riapre la partita le emozioni si susseguono e al trentatresimo è Fofanà per l'Udinese a far correre un brivido a Bizzarri ma l'amaro per il pescare arriva anche nel finale visto che al novantatresimo Crescenzi va ad atterrare in area zapata e ancora Rigore che va a realizzare lo stesso giocatore per il 3-1 finale per il pescare ancora una sconfitta a poche ore dalla gara con l'Atalanta allo stadio triatico è stata una reazione un po' così mi è sembrato un po' esagerato insomma a rigori così se si fischiano sempre ce ne sarebbero 100 a partita insomma però non parlo degli arbitri è stato probabilmente ho sbagliato io magari c'era non lo so però c'è qualcosa che oggi non mi è andata giù più che l'attaccante probabilmente ci mancano tanti giocatori infortunati in questo momento e pesano pesano tantissimo pesano nelle scelte iniziali pesano nei cambi pesa in tutto abbiamo dominato una partita per 90 minuti abbiamo perso 3-1 questa è la solita solfa nel senso che certamente non meritavamo di perdere l'Unione si è fatto tre tiri in porta due rigori ha giocato ha vinto con merito alla fine perché chi vince ha sempre ragione però però io sono come al solito contento per la prestazione scontento perché molto scontento alla fine perché come ci capita spesso non subiamo la bravura delle giocate degli avversari quando ci fanno gol ma praticamente li regaliamo noi e a questa cosa dobbiamo dare una sterzata e la partita pescara-Atalanta in programma mercoledì sera alle 20.45 sarà diretta da guida di Torre Annunziata assistenti di Iorio e La Rocca in Lega Pro momento nero per il Teramo dopo la brutta sconfitta con l'Albino Leffe accompagnata dalla contestazione del pubblico bianco-rosso in seno alla società sono giorni di riflessione per capire i perché del blackout di sabato scorso riflessioni che fa anche il tecnico Nofri il quale nel dopogara ha espresso parole molto forti ascoltiamo è ovvio che siamo stati indecorosi quindi sono il primo che si mette comunque sia a giudizio perché credo che poi l'allenamento dei giocatori però la contestazione credo che sia nata al di là del secondo tempo indecoroso anche da credo un non saluto che quando comunque sia hai torto devi comunque sia stare a testa bassa devi rendere conto anche negli errori quello che è stato il tuo sbagliare quindi abbiamo sbagliato due volte questa è una cosa sicuramente da non ripetere perché poi oltre il calcio c'è il rispetto e su queste cose dobbiamo sicuramente essere più bravi ma i tifosi ce l'hanno avuto di tutti i colori quindi giustamente perché poi quando perdi devi accettare le critiche gli insulti gli improperi ma non non è ma sai tanto i tifosi se io io devo fare un resoconto con la società quindi col presidente col direttore generale col mio staff lì noi dobbiamo parlare noi perché noi giocatori li vediamo tutti i giorni quindi è ovvio che il tifoso vede la domenica vede la prestazione una volta Croce può far golle deve giocare una volta Croce non fa golle non deve giocare Petrella non ci ha mai giocato quindi sono tutte sicuramente obiezioni giuste perché poi quando non c'è risultato li devi accettare ma io devo fare un resoconto tecnico non per quello che mi viene riportato dai tifosi i tifosi io dovrei dare il risultato che è la cosa più importante e trist di vittorie per l'Aquila il San Nicolò che si avvicinano alla vetta dei gironi G e F ritrova la vittoria il Pineto a spese dell'Alfonsine mentre si dovrà ripetere la gara Monticelli-Chieti sospesa per un infortunio del direttore di gara Andrea Costantini l'ottava giornata conferma l'ascesa di San Nicolò e l'Aquila le due squadre cercavano il trist di vittorie e l'hanno trovato impressionante l'affermazione della squadra di Massimo Epifani attesa dalla difficile trasferta sul campo di una squadra in forma come il campo basso e la risposta è stata eclatante 5-1 che non ammette repliche una partita giocata in crescendo dal San Nicolò dopo il botta e risposta di inizio gara e il gol di Traini alla mezz'ora nella ripresa i molisani crollano e il San Nicolò dilaga con Bisegna Moretti e il gol del classe 2000 di Stefano Terramani ora terzi a tre punti dalla vetta l'Aquila nel girone G fa suo come da pronostico il match con la Torres ora fanalino di coda solo nel finale la squadra di Morgia ha chiuso definitivamente i conti fiaccando la resistenza della squadra sassarese in gol Russo e Brenci nei finali dei due tempi i margini di crescita sono ancora ampi e intanto il primo posto al momento condiviso dalle tre laziali Rieti Albalonga e Ostiamare è lì a due punti sempre nel girone G torna a fare punti l'Avezzano l'1-1 di San Teodoro ha risvolti agrodolci da un lato positivo perché i marsicani superano il virus sardo che aveva provocato le tre sconfitte consecutive e perché per un'ora hanno giocato in 10 per l'espulsione di Bittaglie resta il rammarico per il rigore fallito da Tabacco e per non aver protetto il vantaggio segnato dallo stesso Tabacco a 5 minuti dalla fine di Malesa il gol del pari tornando al girone F seconda sconfitta consecutiva per la Vastese che non ha superato i postumi del tonfo interno col campo basso la squadra di Colavitto subisce lo stop al Benelli dalla Vispesano trascinata dai gol del solito Costantino e di Mureno nel mezzo il momentaneo pareggio di Fiore ora la Vastese è attesa da un derby all'Aragona quello contro il Pineto che dal canto suo sembra essere al momento uscito dal tunnel con la cura a Maulo gli adriatici tornano alla vittoria al Mariani Pavone battendo l'Alfonsine in una gara complicata dall'immediata espulsione dell'estremo Mazzocchetti il Pineto però è più forte dell'avversità fa leva sulla giornata di grazia dell'attaccante Antenucci che sigla una doppietta il tentativo di rimonta degli emiliani viene sedato dalla terza rete di Proietti che rende inutile anche la seconda rete dell'Alfonsine il Pineto lascia così il penultimo posto dove resta la Re Canatese si dovrà rigiocare da capo la gara tra Monticelli e Chieti l'infortunio dell'arbitro evita l'ottava sconfitta consecutiva ai Nero Verdi che all'intervallo erano già sotto di due gol e il terzo filone dell'inchiesta d'Irti Soccer non avrà conseguenze su società e tesserati da un punto di vista sportivo il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato irricevibile il deferimento tira così un sospiro di sollievo l'Aquila Calcio coinvolta ricordiamo nel procedimento disciplinare per via dell'ex dirigente Ercole Di Nicola e lasciamo il calcio è stato l'inglese Matt Wallace ad aggiudicarsi il Grand Tour la competizione che ha visto sfidarsi golfisti professionisti provenienti da tutta Europa sui campi del miglianico Golf Club alla fine della presigiosa competizione la grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale del Feder Golf Franco Chimenti ascoltiamo Allora Presidente un giudizio su questa Grand Final più positivo non potrebbe essere veramente straordinario alietato da una giornata clamorosa clamorosa che fa onore e voglio dire e rende ragione a un sud d'Italia che la gente deve cominciare ad apprezzare nel modo giusto una gara magnifica bellissima con campioni veri questo è un circuito molto importante che è nato non tanti anni fa in cui noi italiani abbiamo creduto da subito e meno male che c'è e soprattutto meno male che c'è un campo come miglianico e una regione come l'Abruzzo che credono in queste manifestazioni che rendono ragione ad uno sport come il golf Quali saranno i principali passi che la federazione muoverà verso la Rider Cup del 2022? Per esempio quella di incrementare il golf nel sud che è una promessa che noi abbiamo fatto proprio per aggiudicarci la Rider Cup la cosa più importante è questa propulsione del turismo nel sud che ha questa vocazione assolutamente turistica per cui in una regione come questa questo si potrebbe avverare veramente quello che noi inseguiamo e a quel punto veramente secondo me avremmo fatto qualcosa anche per il paese un giudizio anche a questo punto proprio sul circolo del miglianico golf bellissimo bellissimo un circolo bellissimo che veramente può rappresentare un propulsivo per tutto il sud ed Italia ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti